Ciao Das Video! Allora oggi vi faccio subito una domanda mi interesserebbe sapere di che zona d'Italia siete, dove abitate, i miei mille iscritti se non volete specificare proprio la città, specificate la regione o comunque tutti quelli che mi vogliono scrivere in che zona d'Italia sono mi fa molto piacere sapere questa cosa anche perché voi sapete, sono arrivato a mille iscritti, anzi li ho superati e volevo organizzare una specie di piccolo evento insieme a degli altri youtubers insieme a me e poi se parteciperanno altri ancora, più sia, meglio è e poi mi piacerebbe che a questo evento partecipassero molti miei iscritti insomma adesso vedremo chi può venire e di conseguenza anche gli iscritti degli altri youtubers che saranno con me e quindi da fare un bel gruppo e sarebbe una cosa molto molto simpatica però appunto mi piaceva sentire da voi la città dove abitate, la zona, la regione d'Italia insomma da farmi un po' un'idea di dove abitate da che zone d'Italia siete iscritti per svideo, per me da dove mi seguite? fatemi sapere nei commenti scrivete nei commenti da che regione, da che città, da che città siete vedete, io sono di Parma però magari questa cosa pensavo di farla anche vediamo, vediamo la città dove si svolgerà il tutto e quindi niente quindi è tutto qua scrivetemi, scrivetemi, fatemi sapere qualcosa anche perché così si cerca di organizzarsi un po' per questa cosa perché davvero mi piacerebbe innanzitutto conoscere dal vivo alcuni altri youtubers ovviamente e poi tanti miei iscritti sarebbe un sogno fantastico conoscere dal vivo tanta gente che mi segue e mi ha visto solo presso a video diciamo scusate, non parlo di queste cose, mi emoziono perché so già che sarà un'emozione grandissima quindi io poi sono una persona abbastanza timida quindi lo sapete anche se nei video magari sembro molto vabbè, ok ciao 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 questo video ciao ciao grazie e fatemi sapere ciao